Ansa, Torino, 21-8, la Juventus ritrova Marchisio. Convocato per la trasferta di Udine, ma perde Mautidi. Il francese ha accusato un affaticamento al flessore, e resterà quindi a casa. Lo ha reso noto Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa della vigilia. Gli infortuni durante una stagione capitano, dice il tecnico, bisogna fare di necessità virtù. Grazie.